A Ragusa e a Palazzola Creide nascerà un centro di prevenzione e di ascolto per le vittime di violenza legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Un progetto denominato Lambda che vede Ragusa comune capofila. Lambda è stato approvato e ammesso a finanziamento per un importo di 92.820 euro dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A collaborare per la riuscita dell'iniziativa le associazioni Agedo Ragusa e l'associazione culturale Dalia di Palazzola Creide che attiveranno uno sportello di ascolto e di assistenza, voluto fortemente per combattere appunto discriminazione e violenza. Saranno offerte consulenze specialistiche in ambito legale, psicologico, sociale ma anche medico, educativo e di ricerca di lavoro se necessario. Il progetto prevede anche assistenza per le famiglie coinvolte e coinvolgimento delle scuole. Sarà anche creata una casa rifugio e in quanto tale con ubicazione segreta per accogliere quanti si trovano in forte pericolo. L'intento comune nostro ed i cani cattini bagni spiega il sindaco Peppe Cassì e essere presenti su tutto il territorio metropolitano e montano per proteggere e fornire servizi concreti a chi si ritrova in difficoltà, a chi è più debole o a chi è vittima di violenza di stampo omofobico. Un obiettivo prosegue che si può conseguire solo facendo rede e quindi unendo le forze e le competenze. Insieme in pratica per contrastare ogni forma di discriminazione. I sindaci concordano poi nel ritenere il progetto una scelta di civiltà e di sensibilità nel rispetto dei diritti costituzionali oltre che educazione alla cultura della tutela e dell'inclusione che mira a combattere ogni pregiudizio per far sì che si accetti il diverso.